Il suono della campanella, un quindicenne esce da liceo scientifico, il tragitto a piedi verso la sua automobilina, il branco che lo accerchia e inizia la violenza, trauma cranico, quattro giorni di prognosi per il giovane che sarebbe stato ripetutamente colpito alla testa dagli aggressori. Questa è una triste pagina di cronaca che mette l'intera città di Caltanissetta di fronte alla violenza giovanile, al bullismo e anche all'indifferenza della città e al mondo adulto che sarebbe rimasto defilato. I dati del fenomeno del bullismo su scala nazionale raggiungono percentuali che fanno riflettere e se estese anche alle forme di cyberbullismo si arriva all'8,4% di giovani che ha subito episodi di cui 7,4% in modo occasionale e 1% in modo sistemato. Il dato arriva al 7% invece di quei giovani che vestono i panni della guzzino prendendo parte attiva all'episodio di bullismo o cyberbullismo, 6,1% in modo occasionale e 0,9% in modo sistematico. Fenomeno quello del bullismo e del cyberbullismo che va monitorato, contrastato sin dalle aule scolastiche fino alle mura domestiche.